Sì, di nuovo tra Ayeracis ma quando uno ha già potenzialo di diafragma potremmo potenzialo in due quando hai aprenduto molto più e sai come controllare la fluidezza del l'aria la posizione del emboquillamento in tubos quindi hai la posizione solamente con un aire un aire quindi e lo sacamo 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 e lo sacamo